musica finita, finita, finita tra Fiorentina e Cagliari, finisce 1-1 niente da fare, niente da fare vince la noia, cioè nel secondo tempo no, non è stata una bella partita primo tempo da sbadiglio la Fiorentina ha premuto di più sull'acceleratore nella ripresa ha trovato il gol con veri sui rigori, fu il pareggio del Cagliari comunque il Cagliari ragazzi è bella squadretta bella squadretta il Cagliari soprattutto Cragno ha parato veramente anche il vento ha parato, ha parato tutto Cragno, tutto, tutto Cragno veramente e non ha fatto il fenomeno con noi come fanno i portieri di solito perché Cragno sta giocando comunque bene dall'inizio della stagione in ogni caso un pareggio che ci può stare perché dopo la sosta comunque contro una squadra in salute come il Cagliari un pareggio che ci può stare, sì però la Fiorentina manca comunque un bomber un bomber davanti, Simeone è veramente un paracarro mamma mia ragazzi, Simeone non la butta dentro manca con le mani si fa anticipare da chiunque mamma mia ragazzi ed è pure arrivato in nazionale argentina mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia Simeone è veramente ancora una volta negativo ha fatto più Vlaovic in 5 minuti quando è entrata che ha portato verbo all'attacco della Fiorentina piuttosto che Simeone in 90 minuti mamma mia veramente indecorosa ancora la prova di Simeone che si impegnerà tanto però ragazzi non ci abbiamo il bomber non ci abbiamo il bomber non ci abbiamo il piontek della situazione non ci abbiamo un pavoletti per dire Pezzella mamma mia ha fatto la bella statuina sul gol così è rimasto così sul gol sul gol di Paboletti è rimasto così così ma come cazzo si fa? ma come cazzo si fa? ma veramente? cioè ferma la difesa sul gol cioè il pareggio ci può stare perché comunque il Cagliari ha creato occasioni pericolose però ragazzi cioè prendere un gol in questo modo ma manco in quarta categoria ma manco in quarta categoria manco in eccellenza se si vede delle cose del genere ma come cazzo si fa? ma come cazzo si fa? ma veramente? e poi è rientrata in campo anche dopo dopo l'infortunio il coraggio da da premiare però ovviamente una disattenzione difensiva da bocciare bene la Fon stavolta che ci ha salvato pure le palle nel finale sul tiro di gioco Pedro Deviato e poi che dire che dire una ferentina bene anche veri su chiesa ragazzi chiesa chiesa mamma mia cioè barella di là e chiesa di qua i talenti della nazionale che trascineranno la nazionale presumibilmente cioè questi al 99esimo minuto correvano ancora correvano da una parte all'altra cioè chiesa è veramente incredibile chiesa è veramente incredibile ci mette tutto in campo mette veramente l'anima ancora molto molto bene chiesa ma anche barella nel cagliari nonostante il fallo da rigore ragazzi questo giocatore ha una grande personalità per avere quell'età quindi tanta tanta roba sia barella sia chiesa poi cagliari ho detto una squadra comunque molto tosta castro ragazzi anche castro mamma mia finché è stato in campo castro cioè avanti indietro avanti indietro corre avanti indietro avanti indietro a far la chiusura difensiva e in attacco c'è lui al centrocampo c'è lui mamma mia è veramente ogni presente castro comunque dai un pareggio che non è da buttare è un pareggio che va preso un po' con filosofia se non fossi deluso insomma vi mentirei però è un pareggio che ci può stare peccato davvero perché se poteva vincere per fare un bel salto in classifica era un avversario alla portata però il cagliari ragazzi lo sappiamo è una squadra tosta quest'anno una squadra che sta bene in campo messa in campo molto molto bene da Marano quindi comunque va bene peccato e voi ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate tanto mi piace il video condividete questo video lasciate like soltanto se il video non vi è piaciuto ma spiegatemi perché nei commenti lasciate un commento qua sotto iscrivetevi forza viola forza viola forza viola forza viola quello sempre peccato davvero però tanto di cappello al cagliari una ferentina buona nel secondo tempo sterile nel possesso farlo nel primo tempo partita condizionata molto dal vento quindi probabilmente senza vento sarebbe andata anche diversamente però ovviamente non possiamo dare la colpa al vento perché c'è stato per tutte e due le squadre però la partita ne ha risentita a livello di spettacolo soprattutto nel primo tempo grazie al vento quindi a causa del vento perché grazie al vento quindi ragazzi fatemi sapere e iscrivetevi sempre forza viola sempre forza viola ragazzi sempre forza viola domani esce il chiacchiere in viola vedetelo e noi arrivi a cercare ci vediamo al prossimo video forza viola